Il Palasalute di Imperia Profuma ancora di nuovo perché è completamente nuovo, siamo all'interno con un permesso speciale dell'Asile del nuovo Palasalute di Imperia, apertura ufficiale il 2 ottobre, una struttura destinata a sostituire le altre decentrate nel capoluogo, a raccogliere tutti i servizi per il cittadino, ma questo ce lo spiega il direttore generale dell'Asile. Qui siamo all'interno del nuovo Palasalute di Via Acquarone, questo sarà lo sportello per le prenotazioni, il cosiddetto CUP, se non erro ringrazio subito il dottor Prioli, direttore generale dell'Asile per averci accolto e aperto un po' le porte in anteprima, perché ricordiamo al pubblico, il 2 ottobre le porte si aprono sul serio. Il 2 ottobre le porte si aprono sul serio, si aprono inizialmente per gli sportelli, quindi l'attività di prenotazione, l'attività di anagrafe sanitaria e tutto quello che riguarda l'accettazione. Si aprono per gli ambulatori specialistici, una parte degli ambulatori specialistici e nel corso del mese di ottobre poi saranno attivati i restanti servizi, la medicina legale e gli altri servizi previsti all'interno del Palasalute. Quindi diciamo un cammino step by step, bisognerà anche un po' educare l'utenza, chiedere anche forse un po' di pazienza, perché ci vorrà un piccolo rodaggio prima di partire in pieno. E' chiaro, è una struttura che prevede circa 200 operatori che vengono a lavorare qua dentro e una quarantina di servizi diversi, quindi i traslochi sono stati organizzati in modo da rendere graduale l'attivazione, il 2 ottobre vengono attivati i primi servizi e durante il mese di ottobre si completerà l'attivazione dei restanti. Quindi il prossimo futuro che cosa vedrà Imperia? Non ci sarà più la cosiddetta mutua di Viale Matteotti, come la chiamano gli imperiesi, l'ufficio di igiene, di Vianizza e così? Certo, i servizi che vengono accentrati qua sono i servizi che oggi sono in Viale Matteotti e i servizi che oggi sono in Vianizza. Quindi, però, naturalmente trovando una collocazione che è una collocazione moderna, accogliente, con uno studio cromatico, con tutte attrezzature rinnovate, quindi diciamo, puntiamo veramente sia dal punto di vista dello stabile che dal punto di vista delle attrezzature e naturalmente i professionisti che sono sempre professionisti validissimi, a dare un miglior servizio ai nostri cittadini. Beh, quello che abbiamo visto fino adesso è davvero splendido, l'appello è anche al mantenimento, perché qui è un po' casa nostra, dovremmo mantenerla come casa nostra, rispettare queste strutture che sono nuovissime. Eh sì, è uno dei problemi che abbiamo a volte nelle altre strutture, dove purtroppo abbiamo anche degli atti vandalici, ma io credo e voglio, insomma, sono convinto che i nostri cittadini quando vedranno quanto è bella questa struttura, quanto è accogliente, moderna e diciamo avranno anche, spero abbiano questo tipo di sensibilità. Il 2 ottobre, a che ora si comincia? Che cosa troverà il cittadino che arriverà qui dove siamo noi oggi? Il cittadino principalmente verrà qui per le attività che riguardano le prenotazioni, il punto prelievi, che fosse prima dimenticato, quindi manteremo per adesso attivi tutti e due i punti prelievi, sia all'ospedale di Imperia che qui. Qui oltretutto non c'è più il limite che c'era in via Matteotti degli ultra 65 anni, ma tutti i cittadini potranno recarsi anche qui a fare i prelievi. Sottolineo come ci siano più di 100 posti auto a disposizione dei nostri cittadini, quindi anche dal punto di vista logistico del posteggio è una struttura che è assolutamente accessibile. Quindi prenotazioni, prelievi, sportello di anagrafe sanitaria, accoglienza e ambulatori medici su prenotazione, per i quali abbiamo già avvertito i cittadini attraverso il sistema di prenotazione che nell'ora e nella data indicata si debbano recare qui in via Quarone. Ritrovamento anomalo di fronte alla casa del procuratore di Imperia, Grazia Pradella. Il magistrato ha infatti trovato sotto lo gerbino, fuori dalla porta di casa, uno spartito musicale. Le autorità locali hanno convocato un nuovo comitato di sicurezza. Sentiamo. Uno spartito musicale nascosto sotto lo gerbino, proprio sulla porta di casa del procuratore capo della Repubblica di Imperia, Grazia Pradella. Un ritrovamento alquanto anomalo avvenuto nei giorni scorsi, che ha spinto le autorità locali a convocare un nuovo comitato di sicurezza per valutare l'efficacia delle attuali misure di protezione cui è sottoposto il magistrato, già vittima nei mesi scorsi di un furto all'interno del proprio appartamento nel centro di Oneglia. Non è chiaro se dietro il gesto si cieli un messaggio intimidatorio in codice, ma resta il fatto che i gnoti siano riusciti a introdursi ancora una volta nel palazzo dove risiede il procuratore capo e raggiungere senza problemi l'appartamento del magistrato, che lo ricordiamo vive dal 1995 sotto scorta, dopo aver ricevuto minacce di morte a seguito dell'inchiesta bis sulla strage di Piazza Fontana. Inoltre, nei giorni precedenti, i gnoti avevano più volte su un altro citofono dell'appartamento dove risiede la pradella, che al momento dei fatti, trovandosi in casa, aveva avvertito gli uomini della scorta e le forze dell'ordine. Chi ha agito deve aver atteso che le forze dell'ordine si allontanassero ed è probabile che conoscesse i movimenti del magistrato. Il comitato di sicurezza si è riunito nella giornata di sabato e al momento nessuna decisione è stata presa sul possibile rafforzamento delle misure di protezione del magistrato, ma nei prossimi giorni il comitato si riunirà nuovamente. Fermato questa mattina sull'A10, il conducente di un tir che procedeva alla pericolosa velocità di 140 km orari, inoltre senza tenere conto del carico pesante trasportato, circa 440 quintali di merce. L'autista è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti, il servizio. Da Madrid a Milano, un viaggio col piede schiacciato sull'acceleratore a una velocità di 140 km orari per consegnare il carico e non perdere lo stipendio. È il racconto che un autista di nazionalità bulgara ha fatto agli agenti della Polizia Stradale di Imperia, che lo hanno fermato sull'A10 a Ceriale. Si è scoperto che il tachimetro del mezzo pesante era stato manomesso attraverso la sospensione a comando e il conducente percorreva l'A10 a una velocità pericolosa, senza peraltro tenere conto del carico trasportato, 440 quintali di merce. Il viaggio folle del tir si è concluso in riviera dopo che il mezzo era stato segnalato da alcuni automobilisti. L'autista è stato denunciato alla magistratura savonese dalla Polizia Stradale per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. La Polizia Stradale sottolinea che in questi ultimi tempi è notevolmente cresciuto il numero dei conducenti che viaggiano senza rispettare i tempi di guida e di riposo. Inoltre, anche sul territorio autostradale Ligure, si sono verificati incidenti con protagonisti veicoli pesanti, che per fortuna non si sono trasformati in tragedia, ma che hanno causato danno alle persone e gravato sull'economia del paese. Scoperto stamani a Sanremo, in corso degli inglesi, un quantitativo di merce contraffatta tra borse e portafogli destinata ai venditori abusivi del mercato bisettimanale matuziano. Denunciata una coppia di italiani che deteneva la merce sequestrata. Vediamo. Nell'ambito dell'attività investigativa per il contrasto alla vendita di merce contraffatta dopo un'intensa operazione di indagini agli agenti della Polizia Giudiziaria, della Polizia Municipale di Sanremo, insieme al personale del Poliziotto di Quartiere e della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sanremo, hanno effettuato una verifica presso l'abitazione di un italiano in corso degli inglesi, dove è stato rinvenuto un deposito con un ingente quantitativo di merce con il marchio contraffatto. La merce era destinata a rifornire i venditori extracomunitari che frequentano il locale mercato ambulante del martedì e del sabato. I pezzi posti sotto sequestro risultano essere circa 500 recanti varie marche di borse e portafogli per un valore che si aggira al dettaglio di circa 20.000 euro. Sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi una 42enne e la sua compagna di 29 anni. Sempre in merito all'abusivismo commerciale, la città di Ventimiglia chiede interventi più efficaci per porre un freno a questo fenomeno. A questo proposito, ieri si è tenuto un incontro con lo scopo di trovare una soluzione per un problema che affligge in particolare il mercato settimanale. Sentiamo. Nella mattinata di ieri si è tenuta una riunione presieduta dal prefetto di Imperia Silvana Tizzano con la partecipazione del questore, del comandante provinciale dei Carbinieri, del comandante provinciale della Guardia di Finanza e del vice sindaco di Ventimiglia, accompagnato dal comandante della polizia locale, in merito al contrasto all'abusivismo commerciale nella città di Confine. In particolare l'amministrazione locale di Ventimiglia ha chiesto di approfondire la situazione dell'abusivismo commerciale, causa di grave danno per l'economia legale, soprattutto in occasione del mercato settimanale che si tiene ogni venerdì nella città di Confine e che richiama anche significativi flussi di persone dalla vicina Francia. Nel corso dell'incontro sono stati studiati interventi di contrasto più efficaci e verranno attuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma con il concorso della Guardia di Finanza. E restiamo su Ventimiglia dove ieri alla visita dell'assessore allo sviluppo economico Edoardo Rixi al deposito merci del Parco Roia era presente anche il consigliere regionale e capogruppo della Lega Nord Alessandro Piana. Una situazione quella del Parco Roia di degrado e pericolo secondo Piana. Ascoltiamo. Oggi è importante la presenza dell'assessore qua al Parco Roia perché ha voluto rendersi conto di persona di quelle che possono essere le future potenzialità di quest'area ma soprattutto di quelle che sono le momentanee carrenze dovute alla presenza di migranti del Parco Roia gestito dalla Croce Rossa perché i gestori del Parco hanno detto che durante tutte le ore del giorno e della notte questi migranti cercano di salire sui treni, treni che oltretutto trasportano anche materiale pericoloso per riuscire ad andare in Francia. È chiaro che situazioni di questo tipo di degrado e di pericolo non attragono certo investitori quindi la presenza dell'assessore oggi è dovuta principalmente a questo importante fattore perché in prima persona poi dovrebbe dare le risposte agli imprenditori che gli chiedono se è opportuno investire in quest'area noi riteniamo di sì e quindi oggi la presenza dell'assessore, ripeto, la riteniamo di fondamentale importanza. Di fronte alla corte londinese Albenga opta per la transazione nell'ambito della causa con la Deutsche Bank ma lo swap resta, i particolari in un servizio. È finito con una transazione il braccio di ferro che vedeva da una parte la Deutsche Bank e dall'altra il comune di Albenga per la vicenda relativa alla ristrutturazione del debito dell'ente attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati che era arrivata dinanzi all'alta corte di Londra. L'accordo tra le parti, citato anche in una delibera di giunta, evita di fatto la prosecuzione di una causa che avrebbe comportato danni enormi per le casse comunali, non solo per le spese legali ma anche per le scarse possibilità di pronunciamento favorevole per Albenga del giudizio inglese. Non solo, l'accordo raggiunto tra il comune e la banca di Francoforte garantisce la rinuncia da parte dell'istituto di credito a proseguire la causa, prendo la strada alla possibilità di rinegoziare il derivato o di risolvere anticipatamente il contratto per una cifra da definire in una successiva trattativa. Lo swap, una delle più recenti innovazioni dei mercati finanziari nell'ambito degli strumenti derivati, sarà quindi rispettato fino a scadenza, ma nel giro di due settimane al massimo al comune sarà riconosciuta dalla banca tedesca una somma di 500.000 euro, praticamente uno sconto sui futuri pagamenti da parte dell'ente. Va ricordato che il contratto swap era stato sottoscritto con la filiale in Winchester Street a Londra nel 2007 nell'ambito della ristrutturazione del debito dell'ente pubblico, con un mutuo pluriennale in derivati per 49,5 milioni di euro, collegato alla necessità di allungare il debito del comune dal breve e medio termine a lungo termine, che ha una durata fino al 2030. L'Assemblea degli azionisti di Banca Carige ha approvato l'avvio dell'operazione di aumento di capitale fino a 560 milioni. Queste prossime settimane, secondo l'amministratore delegato di Carige, Paolo Fiorentino, saranno cruciali. L'Assemblea degli azionisti di Banca Carige ha approvato l'avvio dell'operazione di aumento di capitale fino a 560 milioni, proposto dal CDA, che insieme a un'operazione di conversione di bond e alla cessione di asset, dovrà portare a un rafforzamento patrimoniale complessivo di oltre un miliardo, per rientrare nei parametri indicati da BCE. È stata approvata la mozione dell'azionista a malacalza, che prevede l'opzione per gli azionisti. È un momento difficile, ma è un passaggio obbligato. Andiamo avanti con fiducia e affrontiamo queste prossime settimane che saranno cruciali, ha detto la D di Carige, Paolo Fiorentino, subito dopo l'Assemblea degli azionisti. Adesso, ha aggiunto Fiorentino, dobbiamo lanciare ufficialmente l'operazione sugli LME, ovvero la ristrutturazione dei nostri subordinati, che precederà l'aumento di capitale e che, se, come spero, andrà bene, darà molta fiducia anche all'aumento stesso. Ci fermiamo solo un istante, restate con noi, a tra poco. È rinviato al 24 novembre il processo per la ristrutturazione della villa di Claudio Scaiola, sul banco degli imputati l'ex ministro, che deve rispondere di finanziamento illecito a parlamentare. Sentiamo. È stato rinviato al 24 novembre il processo che vede imputato Claudio Scaiola per la ristrutturazione di Villa Ninina sulle alture di Imperia. Sulla dimora dell'ex ministro, nel corso dell'ultima udienza, il consulente Lorenzo Branca di Genova, nominato dal giudice Caterina Lungaro, ha lavorato a una relazione sui soldi spesi per la ristrutturazione della villa. Il perito ha avuto 180 giorni di tempo per presentare la sua perizia. Il caso della villa Ninina si trascina ormai da due anni. Scaiola deve rispondere di finanziamento illecito a parlamentare e con lui alla sbarra è finito anche l'imprenditore Ernesto Vento. A sostenere la pubblica accusa il PM Alessandro Bogliolo, che contesta Scaiola di aver usufruito di uno sconto eccessivo dall'impresa di Vento, che ha effettuato gli interventi nella dimora di Via Diano Calderina, sulle alture di Oneglia. Nelle udienze precedenti c'era stata una lunga sfilata di testimoni, tra cui anche l'ispettore Ivan Bracco, comandante della Polizia Postale e delle telecomunicazioni per la provincia d'Imperia. Con lui anche gli uomini della Guardia di Finanza, che avevano effettuato verifiche contabili sui pagamenti all'arco che aveva effettuato i lavori di ristrutturazione della dimora di Scaiola. ISA ha celebrato oggi la giornata finale di Tutti giù per terra, un progetto di riabilitazione svolto con altri enti e scuole. Il progetto è legato alla conoscenza del territorio e alle sue caratteristiche. Vediamo il servizio. Tutti giù per terra, questo è lo slogan, il progetto dell'ISAC, il centro di riabilitazione d'Imperia, qui vicino a me c'è il presidente Stefano Pugi. E ogni volta che veniamo qua troviamo una festa, perché questa è la verità. Con tutti i ragazzi che ormai fra l'altro ci conoscono, ci vengono a salutare, a abbracciare. E per me è un momento anche un po' di commozione, ma anche di gioia, perché comunque ci si ritrova veramente in un ambiente che non si penserebbe restando all'esterno di questa struttura. Tutti giù per terra che cosa vuol dire? Vuol dire andare a contatto con la terra, portare questi ragazzi anche a conoscenza degli orti, delle coltivazioni, del territorio? Sì, intanto mi fa piacere quello che hai appena detto, della confidenza ai ragazzi dell'ISAC che danno anche agli sconosciuti, perché fa capire che non è un mondo chiuso, anzi aperto a tutti. I ragazzi quando sono sereni, come lo sono sempre qua da noi, gratificano gli ospiti. Ci accolgono ormai come amici, ci sentiamo a casa. E questa credo sia una considerazione che hai fatto meravigliosa, proprio per spiegare il progetto. Il progetto di per sé, noi l'abbiamo chiamato la giornata della terra, la giornata della terra perché è un progetto che è stato strutturato in due anni, dove i nostri ragazzi hanno fatto veramente di tutto, hanno fatto escursioni nei boschi, hanno fatto escursioni in ognuno di questi stand che vedete, hanno partecipato ai loro vivai, hanno capito come si faceva, come si inseminava. Io devo ringraziare le esecutrici di questo progetto, Serena Nervi e Federica Ramoino che sono state loro e materialmente hanno curato i ragazzi in questa avventura. È una giornata particolare perché fa capire che ISAC non si ferma a determinati progetti. Noi ci siamo già visti per la festa del cavallo, ci siamo già visti per le piccole mini olimpiadi, ci siamo già visti per gli spettacoli teatrali e canori. Oggi ci vediamo anche per la giornata della terra. Ma tra l'altro voi qui avete anche un giardino che è diventato un piccolo orto, avete persino la possibilità di fare qualche piccola coltivazione fuori suolo. E' una novità per noi, ma evidentemente per ISAC non lo è. No, 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 l'abbiamo da quando sono presidente e io ce l'ho sempre vista e quindi non mi do il merito di averla creata. Perché veramente sono progetti che partono da lontano, ma sono progetti che rendono l'idea di quanto i nostri ragazzi lavorano. Guardate bene, non è portargli a cogliere un fiore. Questo fa parte di un progetto riabilitativo che l'ho studiato dai medici, dagli psichiatri, dagli psicologi, dagli neurosichiatri. Quindi è una cosa che va fatta per il loro bene, non per il nostro piacere. E questo credo sia lo scopo vero e principale del discorso. Raduno precampionato per la sezione arbitri di Imperia nei giorni scorsi a Mondovì. Due giorni intensi di allenamenti e riunioni tecniche guidati dal presidente Alessandro Savioli. Vediamo. Due giorni intensi di allenamenti e riunioni tecniche hanno composto il raduno precampionato degli arbitri della sezione di Imperia, guidato dal presidente Alessandro Savioli, che si è svolto nei giorni scorsi a Mondovì. Le giacchette nere dell'estremo ponente ligure si sono infatti ritrovate per il tradizionale appuntamento di inizio stagione sportiva. A Raduno hanno preso parte anche l'assistente di serie A Stefano Alassio, l'arbitro di serie B Fabio Piscopo e il componente della commissione arbitri interregionale Maurizio Viazzi. Durante la prima giornata si è svolta una riunione tecnica, il cui presidente Savioli e l'organo tecnico sezionale Luigi Rambaldi hanno impartito le direttive per la nuova stagione. La seconda giornata si è invece aperta con un allenamento collettivo, condotto dalla responsabile atletica Federica Sibilla, seguito dai tradizionali test di velocità e di fondo, necessari per verificare lo stato di forma fisica. Stefano Alassio ha quindi tenuto direttamente sul terreno di gioco una lezione dedicata alla comunicazione non verbale. Intenso il pomeriggio finale con una lezione motivazionale condotta dal vicepresidente Federico Marchi, un approfondimento sulle novità regolamentari illustrate da Alessandro Masini del settore tecnico ed un focus dedicato al calcio a 5 del mentor Ligure Antonello Motosso. A partire dal 1 ottobre sarà attivo il servizio di riscossione per i verbali del codice stradale anche presso il comando della Polizia Municipale ad Imperia. Per il momento il pagamento non potrà essere effettuato tramite contanti, ma con carta di credito, bancomat o altre monete elettroniche. La riscossione sarà attiva presso l'ufficio contenzioso del comando di via Spontone, negli orari dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato. Nelle prossime settimane verrà attivato anche il pagamento tramite contanti e forme alternative. Solenne celebrazione liturgica questa mattina a Imperia, nella Basilica del Duomo di Porto Maurizio, per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La funzione è stata celebrata dal Vescovo di Albenga Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti. Si è svolta questa mattina la consueta celebrazione del Santo Padrano della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia di Imperia. La celebrazione della Santa Messa è stata ufficiata alle ore 11, presso la Basilica di San Maurizio, dal Vescovo della Diocesi di Albenga Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, unitalmente al Cappellano della Polizia di Stato, Don Ivan Cattaneo, al Parroco della Basilica, Don Lucio Fabris e al Viceparroco, Don Gianluigi Peirano. Il servizio liturgico è stato svolto dai diaconi Alex dell'Erba e Carlo Brilla. Nella ricorrenza sono stati ricordati tutti i caduti della Polizia di Stato. Presenti il prefetto e il questore della provincia di Imperia, il comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri, il sindaco Capacci, il presidente della provincia Fabio Natta e una nutrita rappresentanza di poliziotti in servizio e in congedo. Dopo vent'anni il club ippico Cavallo Giorgio ritorna sui percorsi battuti dall'antesignano Pasquale La Grotteria, Monesi, Margorei, Salta Valpesio, Valle delle Meraviglie. Sabato 30 settembre si inaugura la base logistica a San Bernardo di Conio, con un trekking da Stellanello a San Bernardo. La partenza è prevista dal centro ippico Cavallo Giorgio a Stellanello-Bossaneto. Saranno presenti il sindaco di Stellanello e di Borgomaro. Sentiamo adesso Riviere 20 e poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Grazie a tutti. Di seguito indichiamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 tra Savona e confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Feglino e finale Ligure, carreggiata chiusa, con doppio senso sulla carreggiata apposta per sostituzione dei ventilatori nella Galleria Carpania dal 25 settembre al 1 ottobre. Diamo uno sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Domani, sabato 30 settembre, una vasta struttura frontale si porta dalla Francia verso l'Europa centrale, arrivando all'Ambire le Alpi in serata. Dopo un inizio di giornata con cielo soleggiato, a partire dalle ore centrali assisteremo a un progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. In serata deboli piogge sparse, umidità su valori medio-alti, venti al mattino in prevalenza settentrionali, rinforzi fino a moderati su centro ponente, deboli altrove. Mare poco mosso sotto costa, al mattino localmente mosso, a largo, parte occidentale e il successivo calo. Dopo domani, domenica 1 ottobre, fino alle prime ore pomeridiane, cielo molto nuvoloso, con deboli piogge sparse, più probabili sui rilievi e nell'interno. Nel corso del pomeriggio, prime parziali schiarite su centro e ponente, in un contesto di variabilità. Umidità su valori medio-alti, venti tra deboli e moderati, in prevalenza settentrionali a ponente, deboli variabili a levante. Mare poco mosso o localmente calmo sotto costa, localmente mosso a largo, su parte occidentale, al mattino. Siamo giunti in chiusura. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata. Grazie per essere stati con noi.